Nel pomeriggio di ieri nella piazza centrale davanti alla stazione ferroviaria di Giulianova si è verificata una violenta rissa. Due fratelli egiziani di 21 e 25 anni sono stati feriti con coltellate alla fronte e alle mani. Uno dei fratelli è stato ricoverato all'ospedale di Giulianova mentre l'altro è stato trasferito a Teramo. Fortunatamente nessuno dei due in pericolo di vita, anche se il fratello trasferito a Teramo, ha riportato traumi dovuti alle percosse. Un terzo ferito, anche lì straniero, è stato medicato e dimesso. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili. Un episodio che però ha riaperto la già delicata tematica della sicurezza. Intanto questa amministrazione comunale ha tappezzato tutta l'area diacente alla stazione di telecamere. Abbiamo il più ampio servizio di videosorveglianza della provincia di Teramo. Naturalmente ci appelliamo alle forze dell'ordine. Sappiamo che le stazioni storicamente sono zone particolarmente sensibili e quindi speriamo che sia la Polferre che le altre forze dell'ordine possano attenzionare nel miglior modo possibile quell'area. La piazza è raffollata di cittadini, turisti e pendolari e la scena ha generato panico tra i presenti. La stazione Giulianova è infatti un punto di transito per molte persone e non è la prima volta che si verificano risse in questa zona. C'è bisogno di maggiore forza di polizia però ricordo che insomma sia il presidio della Polferre a Giulianova che ha anche un incremento nel periodo estivo sia la vicinissima compagnia dei carabinieri di Giulianova che ringrazio per lo straordinario lavoro sapranno sicuramente mettere in atto tutte le iniziative possibili. Dispiace e segnaliamo che insomma a fare questi episodi all'interno della stazione come quello di ieri sono persone che non sono residenti sul nostro territorio e vengono qui a Giulianova probabilmente o per delinquere o per arrecare dei disturbi come quelli che sono avvenuti nella giornata di ieri. La cosa che preoccupa è l'utilizzo dei coltelli? Sì è molto preoccupante è un ripeto è un episodio che va assolutamente attenzionato anche se io non farei tutto questo allarmismo perché dai dati che ci vengono forniti dalle prefetture e dalla questura Giulianova diciamo che è uno di quei comuni soprattutto nel litorale dell'Adriatico che non ha particolari problematiche. È evidente però ripeto che le stazioni tra cui la stazione Giulianova come la stazione di Pescara e la stazione di San Benedetto hanno delle evidenti criticità.